provo qui fai ventri romo e lo so io uso la scartenza ma ti provo e adesso ti butti due e ti diri adesso mi interessa vedi io faccio un coccino poi vado qui poi vado vado ah 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 capito cosa devo fare e ah 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 ora ora con forza, tu sei stato un po' così e io così adesso ora con braccio, senti quanto movimento, senti? io mi avestimo bene, poi quando sono avestimo passo, e non ti sfoco subito e vengo qui, e poi guarda e cosa facci? quando tu sei laterale io, ora adesso tocca il tuo te posso, ahhh, senti? io posso dare aia, posso dare aia posso dare aia tua macchina, e? bro stai puto in modo fluido, fluido cante, cante, cante unta devo portare le coppia stai cap non spiace Nicola, non l'abbraccio destro, spiace, eh, non spiace, non spiace.